bentornati su un nuovo video di acquariolo costo in questo video volevo farvi vedere come costruire una plafoniera molto economica perché molti dei commenti dei video passati mi hanno chiesto se potevo appunto fare come illuminavo l'acquario e come si poteva fare una plafoniera spendendo pochi euro io vi faccio vedere generalmente le luci che utilizzo che sono queste che sono t5 neon t5 plafoniere che si comprano dai cinesi e vi posso garantire che io le uso da diversi anni e funzionano benissimo e non se ne è mai bruciato una per cui saranno cinesi però sono di qualità di conseguenza vediamo i costi in questo caso io utilizzo siccome ce l'avevo già utilizzo tre piccoli neon che però in realtà sono un vantaggio perché avrei potuto utilizzare dei vattaggi superiori due neon invece che tre magari perché questi qua sono da 6 watt e questo da 8 watt in realtà ci sono anche da 13 watt e da 16 watt addirittura anche da 21 watt però quelli da 21 watt in realtà si trovano molto molto più difficilmente e quindi se volete fare una plafoniera come vi farò vedere utilizzerete eventualmente se avete bisogno di più luce dei neon più grandi quindi anche quelli da di solito utilizzo quelli da 13 watt per illuminare ad esempio 50 litri un acquario di 50 litri ne uso uno solo ovviamente se se ne usa due ci sarà avremo una luce più forte oppure potete utilizzare due da 13 watt per acquari più grandi insomma vedrete voi insomma in base a insomma all'illuminazione che volete vi posso dire però che sicuramente questo ad esempio è una plafoniera che appunto 6 watt più 6 watt fa 12 watt più 8 watt fa 20 watt 20 watt che utilizzerò per un acquario da 50 litri ottima copertura perché sono tre neon che messi che metterò in comunque vi farò vedere poi quando faremo la plafoniera quando la costruirò e niente praticamente in questo modo aumenta la copertura perché come saprete nel negli acquari più che il vattaggio è importante la copertura ossia se io ho 20 watt voglio illuminare acquario con 20 watt diverso sarà 20 watt con un unico neon oppure con una lampadina magari quelle compat flash sarà diverso che 20 watt ottenuti con 3 neon differenti perché ovviamente riusciremo a piazzarli in modo da ricoprire la copertura una copertura totale dell'acquario e quindi ci sarà una luce più uniforme e vantaggio per le piante e niente quindi dai andiamo avanti vi faccio vedere utilizzeremo poi di solito viene dato in dotazione questo cavetto perché si può mettere i neon in parallelo credo si dica ora io in realtà avevo solo un cavetto per cui mi usciranno poi due spine quindi due prese dalla plafoniera invece che una però insomma pazienza se invece avete i cavetti per collegarli di solito vengono forniti insieme alle lampade ma non sempre questa è una cosa che ho notato e per questo che probabilmente ci sono soltanto però in genere si trova anche questo cavetto per metterli appunto in parallelo ripeto non so se il termine corretto in serie è un parallelo ed è decidica in parallelo comunque banda alle ciance e qui poi userò il cookie come riflettore userò questi pannellini di plastica per fare ovviamente la plafoniera che sono praticamente dei pannellini a materiali di recupero che ho recuperato scusate lo zoom ho recuperato niente al cazzonetto che era praticamente della pam che erano cartelloni pubblicitari ma sono in una plastica molto resistente ma leggera per cui sono ottimi per per fare la plafoniera niente ovviamente voi potete utilizzare eventualmente compensato legno o altro materiale plastico che avete e che trovate insomma che riuscite a recuperare perché in questo modo vedrete che poi la spesa per la plafoniera sarà veramente di pochi euro perché alla fine si ci basta comprare questi che ah mi sono dimenticato di dire che come vedete questi qua sono già belli e pronti perché perché sono t5 8 watt metto a fuoco 6500 k sono già compresi di lampada e quindi sono già perfetti perché 6500 perfetto la temperatura perfetta per per la luce in acquario o meglio io utilizzo soprattutto questi tipi di neon poi si può usare anche i 4000 k però in genere io utilizzo solo 6500 e mi trovo benissimo l'unica cosa è che se volete utilizzare i 4000 i 4000 k ecco io non lo utilizzo perché in genere i 4000 k sono un pochino più sono un colore della luce un po più giallino e in genere funzionano come neon fito stimolanti per le piante però in realtà cosa succede che in realtà se avete delle piante rosse o che tendono comunque rossiccio il 4000 generalmente ho notato che 4000 k tira fuori un po più i colori rossi delle piante io al momento non ho piante rosse non mi interessa per cui utilizzo i 6500 k detto questo i prezzi questo 7 8 euro questo 6 7 euro 6 7 euro quelli da 13 watt costano sui 10 euro per cui insomma qui c'è una spesa di mettiamo 6 12 sì una ventina di euro una ventina di euro e poi basta perché non c'è altre spese da sostenere per cui una plafoniera con 20 euro e andiamo avanti vi faccio vedere come viene e come verrà ecco il vantaggio di questa plastica che ho preso è perché comunque è super leggera resistente e si taglia come burro cioè molto facile da tagliare per questo che comunque ne ho presi diversi pannelli perché mi era utile appunto per fare poi diversi lavoretti e come vedete insomma la taglierò con un taglierino semplicemente quindi un bel vantaggio perché non bisogna usare seghetti e dove va eccoci qua tagliati tutti i pezzi per fare la scatolina della plafoniera qui ho fatto una parte laterale con un buco che fa passare i cavi adesso andrò ad applicare semplicemente con un po di colla la carta staniola come per fare comunque un riflettore quindi ovviamente all'interno e poi in colori abbracci monterò le lampade e niente di più e la plafoniera sarà finita queste plafoniere ci hanno anche questi insomma inserti per poterli applicare in vari modi in realtà queste sono le luci non l'ho detto sono delle lucette sottopensile che in genere si mettono appunto sotto i pensili in cruchina invece sono perfette anche per l'acqua e niente quindi ci sono questi inserti per poterli avvitare però io in realtà semplicemente le incollerò sul pannellino volendo voi se utilizzate il condensato del legno potete utilizzare quegli inserti per fissarlo eccoci come vedete sembra un balletto di cioccolato in realtà in realtà sono i pannellini di prima dove ho applicato il cookie di modo che insomma sarà all'interno molto riflettante e è molto importante una cosa sottovalutata il riflettore ma in realtà fa in modo che insomma non si risperda buona parte della luce e niente l'unica accortezza che in questo il pannello quello principale dove poi andrà incollato qua alle lampade di fare in modo di dare la colla comunque per lo più sulla parte esterna perché qua ovviamente non incollerò sul cookie ma farò un taglietto della misura della lampada di modo che poi incolli sulla plastica e non sul cookie altrimenti incollate sul cookie in realtà niente quindi possiamo andare avanti eccoci qua sto incollando i pezzi non per l'ultimo pezzettino ho incollati ovviamente insieme a fare una scatolina e poi ovviamente dall'altra parte lo rivestirò in qualche modo pensavo a del nastro adesivo di quello grosso nero e niente così viene nera e viene carina niente ho incollato anche i neon poi manca l'ultimo pezzettino dove ho fatto ovviamente il buco che servirà come prezzo d'aria attenzione a fare perché un pochino scaldano questi questi neon quindi comunque cioè in realtà non è il neon che scalda c'è nero fino a un certo punto ma come si chiama comunque i componenti all'interno che un pochino scaldano e quindi comunque questa che in realtà serve per far passare i cavi in realtà poi è anche una presa d'aria per cui fate una bella presa d'aria insomma da una parte eventualmente di modo che si scalda un pochino insomma fungerà da dissipatore diciamo niente proseguiamo ok praticamente è finita come vedete già collegata ora poi dopo guardiamo se funziona tanto prima volevo anche rivestirla e niente vi dico un'altra cosina che se io ho utilizzato colla ciano acrilato e quindi insomma attac insomma marche più economiche dell'attac insomma la colla è quella e se usate questo tipo di colla state attenti solo a una cosa e cioè quando la incollate quindi con le reti neon incollerete tutte le parti laterali state attenti nel senso quando l'avete incollata poi lasciatela in questa posizione e non al contrario cioè capovolta perché altrimenti la colla asciugando crea dei vapori che fa opacizzare tutto il cookie per cui insomma si perde molta efficacia poi nella nella riflessione della luce insomma di conseguenza la lasciata in questo modo anche per 24 ore va benone e poi posto niente ci vediamo più tardi per gli ultimi ritocchi e tuvala ragazzi la plafoniera è pronta non si vede un tubo perché troppa luce in realtà sono tre ne ho fatto il conto all'inizio sono 20 watt quindi niente di incredibile e questa insomma poi la plafoniera da sopra dove ho applicato del nastro nero quindi insomma anche esteticamente non è male ci sono due cavi che escono quindi due spine però vi ho detto il punto che con dei cavetti in parallelo alla fine io non ce ne avevo solo uno se no ne potevo utilizzare due e sarebbe venuto poi un unico cavo di uscita alla colla questo è quanto adesso la vediamo sull'acquario eccoci praticamente questa profaniera questo è il nuovo allestimento che ho fatto ultimamente e niente però vabbè lo presenterò magari in un video apposito magari quando poi si sviluppa un po e niente la plafoniera eccellente sono molto soddisfatto e anche esteticamente come vedete non è male quindi insomma il prezzo di 20 euro una plafoniera perfettamente funzionante con neon t5 che comunque sono interessanti perché comunque i neon t5 sono i migliori nella penetrazione dell'acqua perché comunque sono neon che penetrano maggiormente la luce penetra maggiormente nell'acqua rispetto ad esempio a t8 e a led e quindi io generalmente le preferisco però vabbè in realtà è perché avevo ormai già i neon già si le lucette no già l'avevo già comprate a comprate le avevo non le utilizzavo quindi ho deciso di farcela plafoniera per questo acquarietto altrimenti comunque si può benissimo utilizzare delle lampadine a led semplicemente quindi si fa sempre a scatola in questo modo una scatola e poi si mette porta lampade una lampadina a led due lampadine a led poi decidete voi quante l'importante che sia sempre luce fredda quindi 6.400 6.000 6.000 k 6.500 su quella quella temperatura lì infatti questa ad esempio ha sempre una plafoniera con una lampadina semplicemente una lampadina a led a 6.500 bene direi che per questo video è tutto spero vi sia piaciuto spero che sia utile e ci vediamo ci sentiamo nel prossimo video ciao